Ciao a tutti ragazzi, sono NDD e bentornati sulla Monster Allora, l'ultima volta ci eravamo lasciati in caverna, se non erro Sì, se non sbaglio Però il problema Il problema, indovinate? Indovinello Che cosa è successo? S'ha morto, sono deceduto E ha perso qualsiasi cosa Ho perso tutto tranne questo La spada E il secchio E altre due cose che non mi ricordo più Il secchio possiamo rimetterlo qui Non ci serve, il cinebar lo cuociamo Sono ritornato lì in caverna e ho preso un altro po' di roba Perché ora ci servirà ossidiana, ferro e non mi ricordo che altro Perché dobbiamo farci un piccone Il piccone lo voglio fare con l'allumite Che è quella che mi piace di più Sì perché è il big iron ma manco se mi pagate con l'oro Quindi si fa con 5 alluminium, 2 iron e 2 ossidiane 5 alluminium Alluminium, mi pare che c'era scritto Alluminium 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 Io ce l'avevo Se non sbaglio ce l'avevo Ce l'avevo Ce l'avevo Silver Silver E add in Alluminium Eccolo qua Uno solo Indium Cadmium Ravuranium Ingot Salpter Non mi ricordo più come si faceva questo alluminium Però No, 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 no Ecco qua U E no, non era U Alluminium dust Ma va? Ma va? Ah, si trovava in giro Allora mi sa che il resto ce l'ho giù Perché ho Questo che è? Ah, il subter Allora, praticamente io Con la cosa di aver messo giù qui sotto questi Ho cotto un po' di roba E Silver Iron Indium Iron Copper Circuit Aluminium Guardate quanto ce l'ho Capirai Ci ballamo con l'aluminium noi Ci facciamo i salti mortali con l'aluminium Allora Serve quello E ossidiana E ferro E ferro E ferro Andiamo tutti 50 E ciccia Cucolo E chi se ne frega Poi Andiamo qua Io spero che ancora un po' di lava ci sia E Non ce n'è per un cacchio Mannaggia a me quando svengo Ce n'è 400 Su 4000 Allora facciamo così Fermi Fermi che ho l'idea Ho un'idea Ho un'idea pazzarella Dai E corri Santa Lucia Quanto sei lento Allora Prendiamo il Secchian Poi andiamo giù Sulla Ossidiana E ci prendiamo la lava Puc Grazie Poi Torniamo A casa Teleporto Perfetto Via Corri fratello Corri fratello Sti cosi che crescono ogni volta che io spawno vicino casa E mettiamo qua Perfetto Sta crescendo 1400 Dovrebbe bastare 1400 no? Allora Si fa con 5 aluminum 2 iron E 2 ossidiane Quindi Ce ne vogliono 5 di questi 1, 2, 3, 4 e 5 Poi ci vogliono 2 ossidiane E 2 ferri Perfetto Adesso Mi devi mischiare tutto Mischia tutto E intanto Io Mi vado a sistemare un po' Quale cose Poi Quello che volevo fare Era il piccone Praticamente Voglio farmi un piccone A parte Devo prendere legna Perché non c'è più legna Volevo farmi un piccone Figo Abbastanza figo Sì Un piccone Mo Se è figo Non è figo Voglio farmi un piccone Mi serve un piccone Corri fratello Madonna mia Quanto sei lenta Mi serve legna Perché ho finito la legna E mi serve La legna Ma io le frecce ce le ho appresso Nope Che figata Manco le frecce ce le ho Mannaggia Mette quando svengo Corri fratello Corri Corri Questi sono Piante di quelle Che buco è questo Questi sono i rubber E non mi interessano Lockwood Che è questo Mio Dobbiamo scavarla a mano Perché non ho niente per scavare Per buttarlo giù Praticamente Il zucco è quello Un enderman davanti a me Io A proposito di enderman Dovrei avere Se non erro A parte c'è il ferro Appresso Possiamo fare No Ci serve una crafting Ci facciamo una crafting Dovrei avere io Da qualche parte Non mi ricordo dove Però comunque dovrei avercelo io Da qualche parte Mi butti giù questa Grazie mia Via tutta Questa è mia Tutta la legnetta mia Dovrei avere Comunque Stavo dicendo Una Uno dei quei cosi Che Cos'è quello Che ho preso Mana B In terra per uno Ah della towncraft Tu che mi dai Un tubo Niente Mi da un tubo Vabbè Ci c'è il culo Dovrei avere Uno di quei cosi Che cattura Gli Enderman Dovremmo catturarlo Uno Prima o poi Perché così facciamo L'ender pearl L'ender punch L'ender Cazzaro L'ho preso Che sta roba Ah dell'agricoltura Poi devo studiarmela questa Perché non lo so Come funziona Precisamente Voglio vedere Come funziona So che È abbastanza figa Perché si possono Coltivare E fare un sacco Di roba Che rumore era Io ho rumori abbassati E coi rumori abbassati L'ho sentito Non mi piacciono Questi rumori a me Non mi piacciono Questi rumori Fratello Questi rumori Non mi sono mai piaciuti E dai Su Ecco qua So che vi sta piacendo La Serie dei car simulator Car mechanics simulator Anche a me quella piace Sinceramente Devo dirlo È un bel gioco È un bel gioco È fatto bene E poi E anche la exit Vi sta Piacendo Molto Ho notato Anche perché Ho visto che Sono molti Le visualizzazioni Ma non Mi piace Però vabbè È uguale Non è un problema Insomma A me per capire Giusto per capire Se vi piace o no Lo vedo dalle O dalle visualizzazioni Oppure Dal Normalissimo Cos'è Quell'affare Lì Ah è un l'albero Lo vedo Dai mi piace Che lasciate Corri Oh Mi sono scordato De core E muori Maglialino di merda Ehm Dai che abbiamo Quasi finito la spada Uccidiamo qualcuno Così la rifacciamo E ce la facciamo Sempre di cadmium Di quel coso Oh È finita la spada Purella Non ti posso far soffrire Muori Mi pare brutto Farla soffrire No? Che dite? Eh però devi Oh Devi correre Ecco Se corri Mi fai un favore Abbiamo quasi Finito anche questo E dovremo rifarlo Prima o poi Ragazzi Lo rifacciamo Ehm Poi Qui mettiamo A cuocere Quest Che è la silver qui? Che ce fanno silver Ah perché ho messo Il coso a cuocere Ehm Poi 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 Questo se le rubiamo Questo che è? Ah Sweet corn seeds Questa cuocere Brace Allora Questo Non c'entra Questo no Perché ci va il secchio Queste sì Questo no Questo no Qui mettiamo Questo e questo E legno normale La crafting Ce la portiamo Anzi Dato che ho fatto questo La mettiamo qua Non si sa mai Può sempre essere utile Questi poggiamo qua Per ora Perché non so Ah no Fermi Forse so dove poggiarli Qui No 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 Meglio che no Sprechiamo Scusate eh No scusate se insisto Ma Perché cacchio Devo tenermi tutte quelle cose Io non lo so Ehm Poi Che altro posso buttare Che non mi serva un tubo Le teste Le teste Le teste Eeeh Questi non vanno qua Li mettiamo da un'altra parte Quello sì Li mettiamo qua Pupupupupup Perfetto Pupupupupup Pum Perfetto Allora Andiamo a vedere A che punto era Qui Che dobbiamo usare Quei quattro A J.G. Lee Oh Si dovrebbe essere mischiato Sì Molte l'alumite E molte obsidian Quindi non è Non è un miscuglio così Facile da fare O sbaglio Mmm Alumite Molten Obsidian Molten Quindi io per fare quella Scusa eh No Ma hai detto te Che se fa così Aluminum Iron Obsidian Alumite Mi deve uscire l'alumite Eh sì Obsidian Molten E l'alumite Molten Sì 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 È uscito Adesso dobbiamo metterci Dentro questi Per fare Puc Per fare E mio Alumite building Perfetto E abbiamo un pezzo Poi Questo Dai secca Secca Bravissimo E abbiamo il secondo pezzo E adesso ci serve questo Che è il terzo ed ultimo pezzo Perfetto Secca Grazie Ora E' rimasto qualcosa? Si Alumite ancora? Wow Via Facciamoci la spada Andiamo a nanna Prima cosa Perché qui vedo che sta diventando notte E E Beh Ok Dormire 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 Perfetto Allora No Dove si fa il coso? Qui Qua Allora Ci serve questo Questo E questo Boom Rinforza ed 2 Bellissimo ragazzi Rinforza ed 2 E' la cosa più bella del mondo Adesso Eh eh Adesso è un momento Quello più bello Usiamo Questa Questa E i diamanti E i diamanti Non vorrei usarlo Ma mi sa che mi tocca usarlo Porca pacchettaccia Maledetta La più scazzoli E usiamo questo Anche va Sì Vabbè Fratello Così ci mettiamo una vita Oh Allora 7 su 50 8 su 50 Ace Look Adesso mi serve la mostone Però Mi servirebbe la mostone Ok Va bene così dai Ah forse così sì Più veloce Ah sì sì Più veloce Mi servirebbe la mostone Per farlo diventare Autoriparabile Autorepair Oh madonna Quanti lapis Sto me sta bruciando Vabbè che ce n'ho un bot Dei lapiscazzo Ti ho voglia te Mo la mostone Però dove la vado a prendere Perchè io la mostone Non ce l'ho No Che cacchio fai Ma ti posso a questo Mo io I cosi Di most Non ce l'ho Quindi dobbiamo crearla Si può creare Per pare Con l'acqua E altri aggeggi strani Se non mi sbaglio Si può creare la mostone Con acqua Allora Noi abbiamo fatto anche questi qui Della sword Wee wee Fermi tutti Sword Ricordami un po' Come si Ma chiudi questa porta Come si fa la sword No Broad sword Long sword Mi pare che era Offensive weapon Natural ability Child boot Long Damage Moderato Moderato Si abbiamo fatto questo noi Quindi andiamo a fare quelli Eheh Questo e questo Vediamo se ce la fa A fa Ce la fa A farmi fare tutto Poi vado alla ricerca Della mostone Che la mostone Basta un dungeon In teoria In teoria Non dico che è proprio Il dungeon 05 05 1 Quindi 1 Ok lo abbiamo Poi serve un 05 Qui Fratello ti prego No questa è ossidiana Questa è ossidiana Già stiamo andando sull'ossidiana Porca vacchetta Ossidian Allumite Non è ossidiana Ma Non deve essere ossidiana Ma allumite Quindi Facciamo così Fermi Calami qui tutta l'ossidiana Perfetto E ha svuotato Benissimo Adesso Rimettiamo dentro Come erano 2 pezzi di allumite Alluminum Porca vacca miseria Io mi scorto le cose 5 pezzi di allumite 2 di ferro E 2 di ossidiana 5 pezzi di allumite 1,2,3,4,5 2 pezzi di ossidiana E 2 di ferro Non è che vanno al contrario Per quello che mi rimane l'ossidiana là sotto Vabbè scrivetemelo nei commenti Se è così E intanto che aspettiamo Lì dopo la riempiamo con l'altro ossidiana rimasta Intanto che aspettiamo Andiamo a cercare la moss stone A vedere se si può creare la moss stone La moss 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 Ok Moss stone Si crea con la moss E la moss io come la creo? Maledetto Con il Windbound Station Porca vacca Cioè bisogna per forza fare questa cacchio di Mmm Ah oppure col frid Trasposer Giustamente Con il moisture Giustamente Green day No 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 Mi serve la moss stone a me Quindi dobbiamo per forza Eccola questa serve La ball of moss Of moss E questa che cambia? Vabbè Cambia niente In scena Frecantub Quindi dobbiamo andare alla ricerca di qualche maledetto dungeon C'è un palloso Anche per questa c'è durabilità Ah eccolo qua Ok C'è durabilità 100 E' poca Mi serve una durabilità alta Allora dobbiamo rifare questo Che non l'abbiamo poi più No 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 Oh schifoso maledetto Questo mi serve Ti ringrazio Mio Poi Abbiamo bisogno di Questo abbiamo fatto Questo Questo posso anche buttarlo Ma me lo tengo E poi vediamo Fredda Lo faccio Freddo Bene Perfetto Andiamo a costruire La spada Ok ragazzi Oggi costruiamo la spada Ho fatto il piccone Poi nel prossimo episodio Cerchiamo la moss Dove cacchio era il coso? Eccolo qua Cerchiamo la moss ton Allora facciamo questa Questo qui Questo qua E questo qua Mia Reinforzet 2 Bellissimo Adesso prendiamo diamante Un paio di diamanti Tanto l'ho trovato Di gli altri Qua facciamo Prima il piccone Lo facciamo di Mamma mia Pappa 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 pia pappa Durabilità più 500 E poi la spada La spada Questa Nuh 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 E questo Questa E qua Oh mio dio Durabilità 500 Adesso dobbiamo andare a prendere Ehm Po 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 Questo E i lapis Smuzzoli Così facciamo anche la spada Come questo qui Durabilità più 500 Guardate adesso In teoria dovrebbe durare 501 601 601 Perché mi dura così poco Mannaggia Voi Quando svenite Maledetto Ok Proviamoci Dopo Oddio che figata Ma mi fa fare Il salto Avanti Che figo Che figata Allora Mettiamoci la Bellissima Redstone Non funziona Redstone Porca vacca Il lapiscazzoli E questi Si è Mio 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 No Stufato Rimango a 40 Mio Stessa Davide Dammi i lapiscazzoli Che sono i miei Ok ragazzi Nel prossimo episodio Finiamo il tutto Finiamo il tutto Perché io vorrei farmi anche Altre cosine Non solo Queste Ah già avevamo Quello di ossidiano Bronzo Stone Stone Slime Stone Stone shard Slime Non mi interessa Stone Paper E stone Vabbè Stone Vabbè Quella roba lì Non mi interessa Dobbiamo andare Alle ricercate qui Cosi Maledetti Fa poi vedere Se salto pure No Non salto tanto Pensavo di più Va bene ragazzi Noi ci vediamo In un prossimo episodio Come sempre sono i diti Mi raccomando Iscrivete Lasciate un commentino Uh questi sono i miei Lasciate un commentino E niente Dove sono? Ho messo il pollo Da cuocere io Ok Scriciiamo pure questi Lasciate un commentino Vabbè fate come volete Come al solito Noi ci vediamo In un prossimo episodio Che Andiamo a cercare Qualche dungeon Così facciamo Finiamo di fare Questa cacchio Di spada Di coso Poi voglio fare Un arco E quant'altro Anche se Vorrei fare Questa Io vorrei fare questo Ce l'ho i cosi Dell'ammere io qui No Perché Potevamo pure Vabbè Nel prossimo episodio Facciamo tutto ragazzi Come sempre Sono in dd Mi raccomando Iscrivetevi al canale Lasciate un commentino Vabbè fate come Quello che volete Come sempre Già vi ho detto Potete fare Quello che volete E niente Ci vediamo In un prossimo episodio Qua già c'ho messo Va bene Ciao a tutti Qua già c'ho messo